Buon giorno! Ragazzi, oh mio Dio, un video che non è una reaction di Sanremo, o non parla di Sanremo, in realtà parlerà di Sanremo anche questo. Comunque, benvenuti in questo nuovissimo vlog, sono tornati vlog OMG, sarà difficile eh. In realtà oggi io vorrei stare a letto tutto il giorno, ma siccome the show must go on, grazie a voi ci dobbiamo muovere e quindi usciremo un po' di casa. Ieri notte, per editare il video finale di Sanremo, sono andato a letto alle sei praticamente e ho un sonno sparello, però oggi c'è da fare tantissime cose. Quindi, benvenuti a tutti voi! Adoro! Ok, facciamoci il caffè, riprendiamoci, sgonfiamoci e poi siamo pronti per vivere questa new giornatina. No, ho anche quasi finito l'acqua, quindi dovrò fare spesa, mi arriverà domani. Eh, senta... Ok, mi sono un attimo sistemato, mi sono un attimo cambiato, tutto è pronto, devo registrare un video. Il finale su Sanremo e poi sono tutto vostro. Ce l'ho fatta! Oh mamma, doveva durare pochissimo, ho parlato per mezz'ora. Ora lo edito perché lo voglio mettere subito oggi, quindi ieri, voi l'avrete già visto sicuramente. Lo carico e poi siamo pronti per iniziare questa giornata insieme! Ora, gestino tu! Ok raga, ho finito tutto e ora sono pronto per uscire. Dobbiamo uscire che devo fare dei giri in alcuni negozi sia perché me lo merito e quindi mi voglio fare il regalo per essere sopravvissuto a questa settimana e ovviamente vi farò vedere, e sia perché voglio andare a cercare delle cose per i video di questa settimana, anzi un video di questa settimana. E' tardi, ho fatto tardi con il video, però tutto pronto, sono tipo le quattro e qualcosa, spero che non ci sia tanta gente in giro, anche se è una bellissima giornata e è abbastanza caldo, cioè caldo per gli standard di questi giorni, non ce la faccio a mettermi le scarpe. E devo andare in Garibaldi! Eccoci! Pronti! Con ovviamente un po' di spazzatura perché ormai è tradizione. Ai ai, andiamo! Speriamo di trovare quello che voglio comprare. E' la prima volta che esco questa settimana! Che ansia! Che ansia! Ora, dopo aver fatto tutta questa strada speriamo di trovare quello che voglio, eh! perché se no, mi arrabbio! Meno merito proprio un regalino! Raga, ma secondo me è normale se non trovo il negozio? Al piano di sopra, zero! Al piano di sotto c'è solo cibo! Ma che ne so io? Sarà fuori? Io, boh, sono scioccato! Scioccato! Non lo so! Vabbè, ho già perso un monte di tempo e ho da fare altre cose. Delusione! Pensavo fosse qua perché Google Maps me lo dà qua, ma no! Boh, io ho scioccato! Torniamo verso Porta Venezia a fare altre cose, poi vediamo! Ho praticamente perso un'ora e mezzo a queste metro. Ok, farmacia fatto! Ora, dato che ci sono, devo andare all'obby store, ma è tipo un po' più in là, quindi ci sono altri negozietti di scarpine e entro lì per vedere se trovo quella che volevo. Primo negozio c'erano, ma non c'era il mio numero! Oggi siamo fortunatissimi! Niente raga, nessuno ce l'ha, quindi le comprerò in internet. è che le volevo provare. Vabbè! Oggi umore a mille, ho mandato a quel paese un ciclista. Aveva ragione lui, però se lo meritava. Anche a distorre, insomma, insomma, ho preso qualcosa, ma non quello che volevo, perché non c'era. Torniamo a casa, ho già perso un monte di tempo. Raga, missione saldita. Guardate, è stata una settimana difficile questa, sarà perché ho dormito pochissimo, mi sono alienato da tutti, sono sempre stato da solo in casa a pensare a video di Sanremo, a pensare a Sanremo, ho fatto solo Sanremo. o, eh, non lo so, sono mille giorni che mi danno da piangere, ma così da nulla, eh. E ora perché non trovo le scalpe, ma si può essere così, coglioni. Comunque, arrivato a casa e vi faccio vedere quello che ho preso da Odistore, anche se non è quello che volevo. Ho preso tre patatine, ero andato per prenderne un tipo, sempre di Chaz, solo che non c'erano, però ho trovato queste alla Maria dei Filippi. Poi, dato che c'erano, facciamo scorta, le Lies di KFC, al gusto KFC Chicken, adoro da provare. E terza e ultima, l'Amica Chips, quello ai piselli, con farina di piselli, green, leggera. E tutte queste le proverò, però, o negli Shorts, o in Etichette Tokete. Questo sono molto curioso. Soprattutto, andrò di fuori come Uculi? Non lo so, speriamo. Ora, fatemi lavare le mani, veloce, veloce. E andiamo un attimo su internet, perché ho deciso. Compreremo le scarpe online, dato che non le ho trovate. E, soprattutto, non uscirò mai più la domenica, ragazzi. State pazzi. A parte il cosoli, come si chiama, quello che andava in bicicletta. Allora, aveva ragione, perché stavo camminando nella pista ciclabile. Però lo avevo visto, lui era tipo a 50 metri da me, e quindi sono risalito sul marciapiede. E lui è, ti conviene risalire sul marciapiede, invece di stare nel mezzo. E io ho detto, ma vai a Fanduomo. E sono venuto via. Lo so che aveva ragione, però c'è modo in modo. Nel senso, stavo visto, mica hai dovuto rallentare. Te, magari vai più piano. Poi, la metro pienissima. Una ogni sette minuti. La domenica, sapete che c'è un monte di gente. Cosa fate? Poi, le scarpe che non c'erano. Io, boh, doveva essere una giornata rilassante, ragazzi, oggi. In realtà tutto è... Ma non quella... Ah, aspettate, perché io che vado fino a Garibaldi, tra le altre cose, per trovare negozio, perché Google Maps me lo dava lì, non c'è. Non esiste. Non sono riuscito a trovarlo. Allora, io come faccio? Io volevo la luce di qua. Facciamo una cosa. Eccoci. Anche se sono un po' in ombra. Comunque. Insomma, il coso lì che non c'era. Io ho scioccato. L'ho girato mezz'ora. Ho scoperto anche un piano nuovo, tra le altre cose. Allora, le scarpe sono le New Balance, ok? E volevo queste. Le 5.30. Mi piacciono tantissimissimissimo. L'unica cosa è che a me piace tantissimo questo colore, quelle nere. E ce l'avevano in negozio, ma avevano un 44,5 e basta. Però ora che vedo queste celestine carine, ma non me le metterai mai, non me le metterò mai. O se no, loro avevano queste tutte grigie. Ma queste qui, non so se vi ricordate, sono praticamente uguali alle Valenziaga che ho comprato. Belline queste. No, vabbè, adoro. Queste, un po' pannine. Belle. Sapete cosa? Faccio un... Un sondaggio. Su IG. Anche queste mi piacciono. Belline. Queste ne stanno anche meno. Ah, sono da bambino. Ok. Guardiamo. Faccio il sondaggio. Sondaggino fatto, ora aspetto una mezz'ora e poi guardiamo insieme i risultati e prendiamo o queste o quelle. Mi piacciono tanto, tanto, sperando che ci sia il numero. Stavo dicendo quell'altre, quelle tutte grigie. No, cioè sì, mi piacciono, però ce le ho uguali praticamente di Valenziaga, quelle che mi comprai con i saldi. Quindi ne volevo un pochino nere. E è tutta la settimana che dico, quando finisce Sanremo, vado e mi compro quelle come regalo per allietare lo stress e quindi quando Cristiano non arriva alle scarpe, le scarpe arrivano a Cristiano. Domani, tra le altre cose, finalmente mi arriva anche Mark Caltaggiurone e domani il video sarà più facile perché, oltre che a esserci lui, sarà anche San Valentino per voi, anche se in realtà per me sarà domani l'altro. E ho preparato una mega challenge che vi ho spoilerato durante una delle mie reaction di Sanremo, però si tratta di cibo. È la challenge 24 ore e quindi sarà facile. Rimarro a casa, ho già fatto la spesa, ho già fatto il video lì così e mi posso rilassare veramente. Quindi diciamo che con oggi non è propriamente finito lo stress, anche perché ho girato due video, il secondo mi ha fatto perdere praticamente tutto il pomeriggio, ma sono contentissimo. Adesso devo registrare uno shorts sugli abiti di Chiara, perché ho già fatto quello della prima serata e sta andando molto bene, quindi lo voglio rifare un altro. E poi ci vediamo tra 3, 2, 1 con il risultato del sondaggio delle scarpe. Ho fatto tutto, andatevelo a vedere, ve lo lascio qua sotto nell'info box. Comunque, io ho guardato il sondaggino di Instagram, è incredibile, in 18 minuti, mille voti diciamo, ma sta stravincendo. No, anzi, ve la metto qua lo screenshot. 74% quella, white, con logo Natural Indigo. Quindi sono blu. Mi ne volevo nere. Aspetta un attimo, perché io pensavo fossero nere, invece sono blu queste. Aspetta. Aspetta, anzi. Sono queste? Queste sono blu. A parte blu, non ce n'ho neanche una. Potrei prenderle blu. L'unica cosa è che, boh, le metterò blu. Aspetta, le avevo trovate nere. No, forse non c'era. Ah, forse mi sembrava nero, ma in realtà è blu scurissimo. Aspettate, ve lo faccio vedere. Vedete? Qui, questo è blu, non è nero. E invece da qui sembra nero. Va bene, va bene. Metti 43. Oh mamma, 110 euro. Ma costava così da sempre. Aggiungi il carrello. Ora, check out e paghiamo. Ce l'abbiamo fatta. Comprate, spedizione gratuita. In 3-5 giorni lavorativi dovrebbero arrivare. Oh, vedete? Alla fine il mio regalino lo scarteremo poi più in là. Però ci siamo, ci siamo. Bellissimo perché su Instagram mi state dicendo che quelle scarpe sono da boomer. Ma ragazzi, ma voi ancora non avete capito che io sono boomer? È vero che sembro giovanissimo, ma ho una certa età ormai, eh. Comunque, siamo in bagno perché faccio la doccia. Ne approfitto, così metto in carica un po' il telefono, non mi ho sbagliato, cavo. Dato che ce l'ho già al 10%, ma oggi l'ho usato tantissimo. E poi ci facciamo un qualcosa di skin care perché non ho bisogno, ci riposiamo un pochino. E poi ceniamo. Posso dire, da quando ogni volta che faccio la doccia uso questo, con l'anticalcare, non dico che si è sistemata la situazione perché c'è ancora tutto il calcare che non mi riesce a farlo andare via. Però la situazione è migliorata perché ora si vede attraverso lo specchio. Adoro. Bello. L'unica cosa è che ci rimane queste robe che ora vi faccio vedere. Cioè, vedete? Sembra proprio sudicio, no? Però è da dentro, ma non va via. Eppure ci metto questo ora, eh. Boh, comunque io ora continuo tutte le volte che fa la doccia. Vru, 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 vru. Vediamo, prima o poi andrà via la roba. No, raga, io sto male. Allora, mi stavo asciugando la pelle, no? E ascoltavo le canzoni di Sanremo, ovviamente. Oggi la più ascoltata per me è stata Madame. Poi dopo Paola e Chiara e poi dopo Mark Mangoni. Il fatto sta che stavo dicendo, ho guardato l'orologio e ho detto, mamma, sono già all'8 e 10, io ancora non ho mangiato, devo cenare, mi devo muovere perché c'è Sanremo. Credici, è finito, ora come faccio io ad abituarmi? Ero abituato così bene a mangiare a quest'ora, infatti ho una fame e sbarello. E a proposito di cena, stasera ci facciamo i tortellini, ma non in brodo. Ce li facciamo col burro e con l'olio. Perché l'avevo comprato l'altra volta il burro. Eccolo qua. Ho voglia. Cioè, avevo voglia di tortellini, ma non di brodo, perché effettivamente oggi c'è un po' caldino. E quindi voglio fare questa pazzia. Cioè, dopo lì anche tutta la cucina, perché in questi giorni non ho fatto niente, ma niente. Comunque, vi faccio vedere la mia ricetta. Allora, prendete un piatto, ci mettete i cappelletti. Forse sono troppi, ma ci sta, ho tanta fame. E intanto riempite la pentola con l'acqua, perché deve bollire, ovviamente. Io il sale grosso ce lo metto sempre prima. Lo so che molti di voi servono contrario a questa cosa, ma io faccio così perché mi viene più saporita. E poi riaccendiamo. Ok. Ora, voi direte, c'è da preparare il burro. E no, perché io il burro, a parte che ce le metto due cubetti, perché ho preso apposta questi qua, che sono divisi. Cioè, li metto direttamente nella pentola una volta che tolgo l'acqua, una volta che i tortellini sono pronti. Nel frattempo che aspetto l'acqua, mi sono tagliato un po' di formaggio asiago e lo mangio così, per ingannare l'attesa. Ora che l'acqua bolle, mettiamo i tortellini, sperando che c'entrino tutti, ovviamente. Ok. E aspettiamo tre minuti. A tempo, il burro è pronto. Ah, ho mangiato anche un po' di pane. Tra le altre cose, stiamo continuando a parlare di Sanremo, ma in America stanotte c'è il Super Bowl e c'è Rihanna che canterà. E tra le altre cose, Giulia Delellis, e lì a guardasse l'ha invitata da lei. Che glow up assurdo anche lei. Dalla periferia del Lazio, uomini e donne, grande fratello VIP, al Super Bowl di Rihanna. Geloso io. Comunque, i tortellini sono pronti. Mentre io metto il burro, uno, e il burro, due. Ok. Vedete che si sta sciogliendo? E ci ributto i tortellini. Così. Nel mentre ci metto un po' d'olio, anche se in realtà ce ne metto sempre tantissimo. E poi giro, giro, giro. E così sono pronti. Sembrano in bianco, ma in realtà... Colesterolo addio. Detto questo, cotto e mangiato. Boni. Boni, boni, boni. Mi stavo dimenticando di metterci un po' di parmigiano. Per chi lo gradisce. E non no. Cotto e mangiato. Che la possiamo accostare alla nostra... Ok. Ho dato da mangiare a Darby. Ora mi lavo le mani e mi sono reso conto che sono un po' tutte rotte. Cioè, non rotte. Sembrano le mani di una vecchia. Ragazzi, sono tutte ruvidose. Penso per il freddo, caldo, qualche cosa. Quindi ci devo mettere la cremina. E ne approfitto per rimettere questa qui di la merda. Dato che mi è costata un occhio della testa. Più, praticamente, delle scarpe che ho comprato oggi. E ne approfitto, tra le altre cose, per dirvi che io ieri vi ho detto che ho perso al Fantasarremo, no? Perché ho fatto due calcoli. E ovviamente... Diciamo che... Primo non posso arrivare. Però i risultati ufficiali hanno detto che arriveranno tra pochi minuti. Quindi, prima di salutarci, ci spostiamo in camera. E appena usciranno, controlleremo in che posizione in classifica sono e chi è stato il mio più forte. E quello schifoso che sappiamo già che sicuramente sarà Shari. Perché fino a ieri mi aveva fatto nemmeno 100 punti. Adoro. E poi, ovviamente, voglio sapere da voi la vostra posizione. Non quella pempere-pempemposa, ma quella del Fantasarremo. Ok, raga. Un po' in ritardo. Però è uscita la classifica del Fantasarremo. Allora, andiamo a vedere. Campionato mondiale. Ho fatto schifo. Praticamente sono arrivato 1155esimo su 1.632.608 squadre. Con 1.401 punti. E ci avevo in questa squadra. Tananai, Shari, Leo Gasman, LDA e Lazza. L'Azza mi ha fatto 359 punti, 329 Tananai, 313 LDA, Leo Gasman 128 e Shari 165. Ora, io ce l'avo con Shari, ma Leo Gasman non ha fatto un cavolo. L'unica cosa è che avevo anche altre due squadre io. E allora, il pollaio, il gruppo con i miei amici, no. Dai, sono stato primo tutta la settimana, sono sceso ora. Ho fatto 1720 punti. E chi c'avevo? C'avevo Giorgia, Colapesce, Paolo e Chiara, Will e Setu. Setu mi ha fatto 500 punti. No, vabbè. Rido. Moio. E poi avevo un'altra squadra ancora, che è Beppe Vessillo. E sono arrivato sesto, con 2.016 punti. Quindi, oh, fortissimi in questa squadra. E qui c'avevo Marco Mengoni, con 670 punti. Ah, vabbè, ha vinto. Quanto ha preso lui che ha vinto? Posizione in classifica 100. Ah, 100 punti. Poi avevo Mara Sattei, che ha fatto schifo. Modà ha fatto schifo. Rosa Camila, 460 punti. Ma quanto valeva il bacio, scusate? Invasione di palco non programmata, 50 punti. Ok. Colla Zio, 202 punti. Insomma, vabbè. Non è che abbia fatto così tanto schifo. Fatto sta che non ho vinto. Com'ero, quindi? 1.155 esimo, con 1.401 punti. Vabbè. Voi come siete arrivati? Anyway, non vi ho detto che da domani, anzi domani no c'è Mark, da martedì io devo riniziare con questa palestra, ora che ce l'ho qui, almeno una mezz'oretta al giorno, perché mi sono guardato allo specchio. Era un po' che non lo facevo e devo dire che faccio cacare, ma proprio cacare, cacare che ho ripianto a un'altra volta. Mi è andato via tutto, però vabbè è anche normale, sono tantissimi mesi che non faccio neanche un esercizio. E quindi è arrivato il momento, ma mica per diventare figo, ma almeno per quando mi guardo allo specchio di non piange, insomma, semplicemente quello. Però io penso che allora in questi giorni, in questa settimana, ho pianto più che in tutta la mia vita, non so cosa mi è successo. Però deve essere stata, come ho già detto prima in ascensore, è stata la settimana difficile, deve essere stato che ho dormito un po', tutto sballato, fino alle 5 e mezzo, alle 6, a editare il video e tutto quanto. Quindi non lo so, mi devo un attimino riprendere e infatti ne approfitto per scusarmi con voi per questo vlog. Un po' così, no? Casereccio, un po' alla rinfusa. Però mi hanno sabotato le scarpe, innanzitutto, e tutti i giri fuori. Sono stanco, veramente stanco, e quindi ci voleva un attimino... Diciamo che, allora, di norma, se non avessi il pallino di dover fare un video al giorno, di norma questi due giorni, cioè oggi e domani, me li sarei presi liberi, senza pubblicare niente, assoluto riposo, assoluto niente. L'unica cosa è che c'è una scaletta qua, per tutto l'anno. Ed è anche vero che, in realtà, potevo anche evitare di fare un video, di pubblicare un video, perché questa settimana, che è passata per tre giorni, mi sembra, ho pubblicato due video al giorno. Quindi potrei tenermeli come bonus, però poi è come barare, secondo me. E quindi volevo far vedere anche che, nonostante non ci capisca più niente adesso, proprio zero, comunque volevo la vostra compagnia, insomma, e infatti, oltre a chiedervi scusa, io adesso vado a letto. E per vado a letto significa devo editare tutto questo vlog, ma sono super contento perché sono riuscito, bene o male, a girare, editare, fare tutto, anche oggi, e soprattutto perché domani per voi è San Valentino, per me no, ma farò finta che sia San Valentino, e quindi rivedo Mark dopo una settimana di lavoro intenso e mangerò tutte le cose della challenge. Adoro. Non vedo l'ora di vedervi anche domani. Scusate ancora, ragazzi. Scrivete qua sotto tramite commento, quindi come siete arrivati voi al Fantasarremo e quanti punti avete fatto. Per oggi è tutto. Mettetevi piace a questo video per supportarmi, anche se lo so che fa un po' caccarino, però scusate, ogni tanto ci sta. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo domani. Ciao.